Tag Heuer Carrera Calibre 7, l'orologio da polso che incarna l'arte, la precisione e l'eleganza. L'orologio Carrera Calibre 7 fa parte della collezione Carrera, una delle più iconiche e apprezzate della marca. Il nome Carrera significa «corsa» in spagnolo e si riferisce alla leggendaria gara automobilistica messicana la Carrera Panamericana, che ha ispirato il creatore del primo orologio Carrera, Jack Heuer, nel 1963. Il quadrante del Carrera Calibre 7 è disponibile in diverse varianti di colore, tra cui verde, blu, rosa e molti altri. Il quadrante presenta degli indici applicati a mano, con finitura lucida o satinata a seconda del colore. Gli indici sono dotati di materiale luminescente per garantire una perfetta leggibilità anche al buio. Le lancette delle ore e dei minuti sono anch'esse luminescenti e presentano una forma a bastone. La visualizzazione della data è a ore 3 o a ore 6 a seconda della versione. La versione più interessante del Carrera Calibre 7 è la Twin Time, ovvero una versione con la complicazione GMT. Questa permette di visualizzare due fusi orari contemporaneamente, tramite una quarta lancetta dalla punta a freccia di colore rosso, e grazie alla scala delle 24 ore con colorazione notte e giorno, sull'anello di tensione dell'orologio. In questo caso, la finestra dei secondi si trova a ore 6. Il Calibre 7 è certificato dal COSC, Controllo Physiel Swiss de Cronometre, lente che garantisce la precisione e l'affidabilità degli orologi svizzeri.